carissimi pace pace del signore buona giornata dio vi benedica oggi vogliamo concludere la lettura del capitolo 7 del libro di jonathan goffort per lo spirito mio questo capitolo si conclude con la citazione di un ultimo episodio che riguarda una comunità quella di li chang scrive goffort che per diversi anni la condizione di questa chiesa che era una delle missioni più grandi situate a circa 30 miglia a nord est di chang tefu era stata tutt'altro che incoraggiante goffort aveva deciso di tenere una settimana di incontri speciali aveva buone ragioni per credere che la condizione di quella chiesa spiritualmente insoddisfacente fosse in gran parte dovuta alla vita scorretta di uno dei diaconi che influenzava negativamente l'intera comunità tuttavia non ci si poteva appellare a nulla di preciso scrive goffort contro questo diacono perché era un tipo astuto che riusciva sempre a nascondere le cose la domenica mattina in cui si aprirono le riunioni goffort scrive che si avvicinò al diacono e lo invitò a rimanere per tutta la serie di incontri sottolineando quanto fosse importante il suo aiuto il diacono non rispose ma si diresse immediatamente verso casa sua a diversi chilometri da distanza giunse lunedì il diacono però non era presente venne il martedì ancora non c'era l'anziano di chiesa fu così disturbato dalla cosa e mercoledì mattina presto uscì e andò a casa del diacono per portarlo alla riunione al termine del servizio goffort disse piuttosto seccato al diacono sei stato via due giorni potresti rimanere gentilmente fino alla fine degli incontri lui di contro borbottò giusto qualcosa di incomprensibile e se ne andò il fratello chang responsabile che era andato a prenderlo fino a casa fece del suo meglio per indurlo a restare ma incontrò soltanto la sua risposta sprezzante in seguito goffort vide il diacono e insieme all'anziano fuori nei campi il primo faticava per andarsene via l'altro cercava di trattenerlo l'anziano si arrese tornò piangendo nella stanza dove stavamo io e mia moglie scrive goffort era scoraggiato allora gli proposi che noi tre ci saremmo uniti in preghiera per intercedere in favore di quel diacono il suo caso non è mai al di là della potenza di dio disse goffort all'anziano ricordati di quanto disse gesù se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi quella sarà loro concessa dal padre mio che è nei cieli si incinocchiarono in una silenziosa riverenza goffort pregò più o meno così o signore tu vedi che questo diacono non vuole restare per la riunione e quindi non vuole che tu gli apra gli occhi sulla sua condizione ma anche se a casa sua fa sì che si renda conto di essere oggi l'uomo più miserabile del paese fa che non chiuda occhio stanotte dagli la consapevolezza di star di che sta passando per l'inferno e fa che domani torni per glorificare il tuo santo nome il giorno dopo di buon mattino il diacono era presente era il ritratto della felicità disse ho passato l'inferno da quando ieri ho lasciato questo posto non sono riuscito a dormire la scorsa notte sono sicuro di essere l'uomo più infelice della cina il signore operò potentemente nel suo cuore quando venne sulla piattaforma per dare la sua testimonianza egli era così sopraffatto dall'emozione che a stento riusciva a parlare poi guardando dritto verso la platea disse fratelli devo chiedere perdono a dio e a voi perché quando egli mi toccò il cuore nel grande risveglio di chante fu promissi che in ogni cosa mi sarei sforzato di vivere da buon cristiano invece ho servito me stesso ho inseguito i miei interessi ho trascurato la chiesa ho sempre cercato motivi per giustificare il mio comportamento ipocrita eccetera eccetera è impossibile descrivere con parole l'effetto benedetto che scaturì da quella bella confessione pubblica sembrò essere l'unica cosa che ci voleva per permettere allo spirito di dio di avere il pieno controllo della gente e cari ancora oggi alcuni cristiani trascurano la loro relazione con dio e la loro testimonianza inseguendo come faceva questo uomo i propri interessi e mettendo il signore al secondo al terzo delle volte anche all'ultimo posto nella propria vita è importante che ognuno di noi sia impegnato in prima persona nello sviluppo dell'opera di dio e se non lo siamo dobbiamo andare sulle nostre ginocchia e chiedere perdono al signore dobbiamo pentirci e ravvederci da questo che è un peccato e se conosciamo qualcuno che vive questa circostanza dobbiamo con tutto il cuore intercedere per lui o per lei affinché il signore possa risvegliare questa persona perché cari ogni membro che trascura l'opera di dio è un impedimento alla benedizione e lo sviluppo dell'opera stessa e noi vogliamo chiedere al signore che egli possa intervenire con un soffio potente del suo spirito affinché tutti possiamo essere risvegliati e tutti possiamo essere collaboratori di dio non cercando più il nostro interesse ma come faceva timoteo così scrive paolo di lui cercando innanzitutto l'interesse di cristo e del suo regno che il signore vi possa benedire in questo nuovo giorno e possa la sua grazia essere propizia ai vostri cuori ma riflettiamo cari e adoperiamoci affinché il signore possa tornare a manifestarsi in modo potente in ogni nostra chiesa affinché la sua gloria possa risplendere dio ci benedica insieme